Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport. Zieliński a centrocampo, tra i padroni di casa non partirà a titolare il capitano Rod. Questa sera la grande sfida tra Liverpool e Real Madrid, domani invece sarà la volta dell'Inter con il Porto. Inzaghi sulla squadra portoghese è fortissima, dovremo usare la testa, l'allenatore dell'Inter in conferenza vedrò volentieri con SESA o sta facendo grandissime cose. Su Lukaku e Brozovic stanno benissimo. Olimpiadi, Milano-Cortina, Malagò, coinvolgimento Torino, ipotesi sul tavolo, il presidente del CONI, le scelte vanno discusse in sedi competenti. Parliamo ancora di Olimpiadi, 30 nazioni ribadiscono il no agli atleti russi e la risposta del CIO che aveva ventilato una possibile apertura. Chiudiamo con il tennis, ATP Rio de Janeiro, Musetti subito fuori, vince Gerry in due set. Quarto capo negli ultimi cinque incontri disputati per Musetti che esce di scena al primo turno ATP 500 di Rio. E' tutto, grazie per l'attenzione, Rosario Perez in regia. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport